Il segretario regionale del Partito Democratico, Fausto Raciti, commissaria il circolo di Porto Empedocle, nominato Salvatore Gazziano. I dettagli, Gero Miciche. La segreteria regionale del Partito Democratico, in accordo con la segreteria provinciale di Agrigento, ha commissariato il circolo del Partito Democratico di Porto Empedocle, nominando commissario il responsabile regionale antilocali Salvatore Gazziano. Lo stesso Gazziano, in prospettiva, afferma «Il mio obiettivo è lavorare nella più ampia sintonia possibile con le diverse espressioni del Partito Cittadino. In questa fase è necessario coinvolgere l'intero partito in un percorso che possa far superare le recenti divergenze ed esprimere, in vista delle prossime elezioni amministrative, una candidatura forte e condivisa dentro e fuori il Partito Democratico». Il provvedimento di nomina del commissario è firmato dal segretario regionale Fausto Raciti e assegnando pieni poteri a Gazziano, in sostituzione di tutti gli organismi dirigenti locali, azzera di fatto l'intero circolo del Partito Democratico Empedoclino. Nella premessa dell'atto ufficiale si legge che il commissariamento, tra l'altro, è legato al malessere e alle difficoltà del circolo di Porto Empedocle, che sono state segnalate dal segretario provinciale Giuseppe Zambito. Altra premessa è che la Commissione Provinciale di Garanzia non ha convalidato il tesseramento del circolo per l'anno 2015. E infatti il commissario Salvatore Gazziano avrà il compito, sempre di concerto con la segreteria provinciale, non solo di costruire il percorso per le prossime elezioni amministrative, ma anche di ripristinare il tesseramento per l'anno 2016 e indire il congresso per l'elezione dei nuovi organismi dirigenti. Fino all'intervenuto commissariamento, la sezione Empedoclina e il Partito Democratico è stata retta dal segretario cittadino Maurizio Restivo. A Porto Empedocle, al momento, hanno annunciato di candidarsi a sindaco gli avvocati Antonio Pippo Sinesio, Gianni Amel e l'ex sindaco Paolo Ferrara. Grazie.